un brusio serio ma come si fa amici fare un brusio serio con questi lo ripeto che mangiano si abbuffano infatti c'è un amico che scrive ma la vostra non è neanche una trasmissione di varietà è un programma di enogastronomia Antonella Clerici vi fa un baffo allora dammi la tre dai qualche giorno fa qualcuno ha scritto decalogo su facebook per guardare e seguire Seratona Derby praticamente praticamente il decalogo ma cos'è un'imitazione di moggi questa ma non ti viene bene ma comunque il sottotitolo è l'unico Seratona Derby l'unico programma di calcio che non parla di calcio già questo la dice lunga comunque i motivi per guardare Seratona Derby perché mi piace il calcio oppure perché tifo Juve oppure perché tifo Toro anche se rosico oppure perché c'è il cabaret l'avanspettacolo oppure perché c'è Topogigio ma solo quando parla chi è Topogigio? chi è Topogigio? aspetta aspetta diretto eh però diretto oppure qualcuno ha detto perché c'è musica, danza, spettacolo abbiamo visto la banda poc'anzi e poi ci sono le miss molti hanno detto ci sono le miss vogliamo le miss via te Bruce e Tasso date via vogliamo le miss poi qualcuno ha detto perché siete simpatici qualcuno perché ama scrivere di andare a zappare la terra e poi un uno molto onesto mi ha detto perché non c'è altro in tv il venerdì sera è così amici è già un buon motivo per guardarci grazie bravo Patrizio bravo Patrizio una domanda per Christopher ci sono tanti tifosi inglesi e britannici del Torino c'è ne conosci tre io ho tre mia amica mia amica mia amica e un uomo che mi conosciuto che vive in rugby ci sono tu la tua fidanzata il tuo amico e un altro in quattro siete io ho conosciuto il museo in il stadio si li hai conosciuti al museo dello stadio è un grande fan mi ha chiesto di ottenere qualche autografia quindi ho preso dei giocatori beh ci sono allora ci sono c'è una comunità io penso che tu abbia una squadra preferita in inghilterra o no io penso che tu abbia una squadra preferita in inghilterra o no o no la mia squadra in inghilterra è morta è morta la tua squadra è morta? Wolverhampton Wanderers che squadra è scusa? Wolverhampton Wanderers oh i lupi the wolves sì sì esatto l'anno scorso in premioship finitato bottom eh quest'anno tenata bene col toro questo anno in championship ecco lo dovete sapere adesso vorrei fare un quiz e chiedere a chiedere come si chiama lo stadio del Wolverhampton tu non dirlo come si chiama lo stadio del Wolverhampton si chiama quasi come un elettrodomestico il Molyneux Stadium è vero? eh bravo è quasi il nome di un elettrodomestico alta finanza molto famosa